Giovani impestati. Saranno pure un'esigua minoranza, ma si fanno sentire, come i pugni sui denti che venerdì notte si sono dati due turisti di 18-19 anni del Bergamasco a Cesenatico, di fronte a uno stabilimento balneare in zona Valverde. Ancora una volta, i motivi alla base di un diverbio tra giovani finito in azzuffata sono futili. Secondo quanto riportato dal Carlino, dietro ci sarebbe stato il diniego per una sigaretta. Non è la prima rissa estiva nel comune costiero, ma giovani violenti hanno bussato anche alle porte dell'entroterra. Qualche giorno fa, un quindicene di borghi nel Cesenate è stato aggredito da una banda di giovani, tra cui anche minorenni, finendo in ospedale col naso rotto e una prognosi di 20 giorni. E forse gli è stata pure portata via la collanina. Un'altra baby gang venerdì notte ha invece preso di mira un turista di 19enne in una discoteca riccionese. Anche lui è stato accerchiato e picchiato e in seguito rapinato della catenina d'oro che aveva al collo. In questo caso i carabinieri sono riusciti a rintracciare poco dopo uno dei membri della banda, il presunto rapinatore, che è finito in carcere. Nelle ultime settimane sono entrati in azione altre baby gang nella Perla Verde e il presidente di CNA Riccione, Lanfranco Francolini, ha invitato il comune a perseguire le vie legali chiedendo i danni d'immagine ai genitori dei piccoli delinquenti. Il comune intanto ha attivato un servizio di vigilanza specifico contro il fenomeno.